Amici di Viaggianti in Camper, buongiorno, una piccola diretta per farvi vedere dove siamo oggi. Siamo all'Oasi San Marco a Calatabiano in provincia di Catania. Vi faccio vedere sia l'area di sosta e sia lo scenario che c'è da qua. Adesso giriamo la telecamera. Ecco qua. Guardate l'Ettona che bella, piena di neve. Ciao Dario. Ciao Riccardo, buongiorno. Guardate che scenario che c'è. Allora, questa è l'Etna. Ora giriamo di qua, vi faccio vedere il mare dov'è. C'è una giornata meravigliosa. Guardate il mare dov'è. Guardate che meraviglia. Vi faccio vedere un po'. Riccardo, le vibrazioni va a niente, poi compreremo lo stabilizzatore. Quindi si esce dal cancello di là e si arriva subito al mare. Ciao Dario, ciao Riccardo. Guardate, il mare è lì. Oggi il mare è una tavola. È bellissimo. Guardate, guardate che meraviglia. C'è questa zona alberata. Si attraversa la strada, zona alberata. E si è a mare. Oggi è uno spettacolo. Eccolo qua, guardate. Guardate che meraviglia di posto. E poi l'aria attrezzata è abbastanza vasta. Non è molto ombreggiata ancora. Stanno crescendo le palme. Vi faccio vedere le dimensioni. L'Etna è sempre una meraviglia. Guardate che spettacolo. Ciao Marco. Allora, guardate l'Etna che spettacolo che è. Vediamo, facciamo una zoomata. Ciao Pino. Vabbè, Pino lo conosce bene. Guardate che bello. Piena di neve. Col pernacchio sempre che fuma. Adesso facciamo una rapida panoramica all'area di sosta. Qui c'è una zona coperta dove c'è cucina, bar e un po' di tutto. Quindi c'è possibilità di mangiare, di fare la colazione. La sera addirittura spesso si fa un po' di musica. Quindi c'è tutta l'attrezzatura adatta. Molto vasta come aria. Ci sono parecchi posti camper. Eccola qui. Guardate quanto è grande. Da sopra vediamo se riusciamo a vedere Taormina. perché è vicinissimo a Taormina. E poi vi dicevo che Sergio vi porta in giro senza problemi. Ciao Andrea. Allora, laggiù, non so se si riesce a vedere, nel promontorio lì c'è la zona di Taormina. Praticamente è lì. C'è una casetta mobile, alberi di fichi che sono buonissimi. Quindi Oasi San Marco a Calatabbiano in provincia di Catania. Se vi volete fare una passeggiata. Ciao Marco. Se vi volete fare una passeggiata, guardate che scenario. Guardate che bello. Eccolo qua. Guardate che meraviglia. Guardate. Io devo rifare. Ecco Taormina si vede lì in mezzo. Vediamo se riusciamo a farla vedere meglio. Un'altra zoomatina. Eccola Taormina. Si riesce a vedere lì. E io vi saluto poi facendo una zoomata verso l'Etna di nuovo. Oasi San Marco. La incontriamo bene. Questa è una casetta mobile. Poi forse ne arriveranno altre. Comunque pian piano Sergio e Jenny si stanno attrezzando bene. Qui di settimana si sta molto tranquilli. Il fine settimana è sempre molto pieno. Quindi conviene chiedere prima di venire se c'è posto. Perché si riempie sempre il fine settimana. E quindi vi faccio rivedere l'Etna. Guardate. E' una meraviglia. Oasi San Marco e Calatabiano. Per ora siamo qui. Salutiamo tutti gli amici che si sono collegati per questa rapida diretta. Per farvi vedere il posto. Molto carino. Tranquillo. Di settimana. Il fine settimana c'è un bel po' di casino. Si riempie sempre. E' un buon perseggio per Jenny. Quindi ancora l'Etna. Vedete è molto grande. Quindi ci sono parecchi posti camper. Problemi non ce ne sono. Ma vi posso assicurare che per il fine settimana si riempie. Quindi un posto bellissimo. C'è il mare. L'Etna si vede dall'altra parte. Allora la ringuadriamo. Chiudo l'inquadratura. Il mare è lì. Oltre al cancello. Quindi non c'è bisogno di macchina o di niente. Si va a piedi. Per chi vuole andare al mare. Qua c'è una bella passeggiata. E si arriva a lungomare di Crottone. E' bellissimo. Guardate l'Etna che meraviglia. Guardate. Ciao salvo. Io per ora. Anzi mi giro così. Così abbiamo l'Etna dietro. Vi saluto così. Con l'immagine dell'Etna dietro. Ciao. Buona giornata e buona strada a tutti. Ciao. Ciao. Grazie.